Milioni di anni di storia della terra, concentrati in solo 8 chilometri di lunghezza. Nel sud dell'Alto Adige, il rio Blätterbacher ha creato uno straordinario monumento naturale. Gli strati narrano una storia di 260 milioni di anni, quando il paesancio delle Dolomiti era presumibilmente molto simile a quello dell'attuale Golfo Persico. Secoli addietro, anche l'uomo scoprì le aree attorno alla gola del Blätterbacher. Qui si trova il Grand Canyon dell'Alto Adige, la forra del Blätterbacher, inserita con le Dolomiti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Grazie per la visione!